Sono iniziati i lavori di riqualificazione presso questa che è considerata una zona periferica della nostra comunità. Qui verrà l'hub intermodale, vale a dire il posto in cui ci sarà l'interscambio di tutti i mezzi di trasporto urbano ed extraurbano. Inoltre verrà riqualificato interamente il parco giochi che è ubicato in questa zona che momentaneamente non sarà disponibile ma che avrà nuove giostrine per i nostri piccoli. Verrà inoltre garantito durante tutta la fase esecutiva dei lavori l'accesso agli impianti sportivi che sono in questa zona. Un'area dunque che avrà nuovi servizi e che divennerà centrale per la nostra comunità ed è qui che si incontreranno i pendolari, i turisti, gli sportivi e i bambini della nostra comunità perché vogliamo fare in modo che queste aree siano ricongiunte col centro cittadino anche per garantire una migliore mobilità. Con questa infrastruttura andiamo a rivoluzionare completamente la mobilità urbana ed extraurbana. Tutti sappiamo che i pendolari sono quelli che hanno più sofferto lo spostamento del capolinea in una zona di periferia. Grazie alla realizzazione del terminal bus andiamo a fornire quei servizi mancanti e sia i pendolari della nostra città che raggiungono i posti di lavoro o la scuola sia i turisti che vorranno raggiungere la città di Giustizio. Grazie a tutti!